Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ho realizzato insieme a voi questo trucco occhi con solamente un bronzer e un illuminante quindi è super semplice, facile e veloce, voi guardate il video e poi fatemi sapere cosa ne pensate con un pennello largo prendo il mio bronzer, questo qua è di Fenty Beauty e il Caramel Cutie vado a prendere un po' di colore, chiaramente se utilizzate il bronzer non avrà la stessa scrivenza di un ombretto quindi chiaramente è più leggero, dovete fare un pochino più di passate quindi lo iniziamo ad applicare nella piega dell'occhio, in questo modo qua e questa qua è la parte che diciamo rimarrà più leggera e appunto faccio questo movimento qua devo dire che questo pennello è veramente comodo, non pensavo ma è molto molto comodo dopodiché riprelevo altro prodotto ma stavolta di più e mi concentro nella parte esterna dell'occhio come vedete è leggermente più intenso l'ombretto, quindi una volta che l'ho applicato qua lo porto leggermente verso l'esterno e poi risfumo con quello che ho applicato prima posso aiutarmi un po' con le dita oppure se c'è troppo prodotto nel pennello lo scarico sull'orso della mano, su un fazzoletto, quello che volete in questo modo andrete solamente a sfumare senza aggiungere altro prodotto con quello che rimane sul pennello vado leggermente nella rima inferiore come sempre e anche qua porto sempre in fuori verso l'esterno perché quello che voglio io è un effetto allungato dopodiché prendo il mio illuminante, questo qua è di Catrice ed è bellissimo è già il secondo che ricompro ed è il numero 030 e lo vado a prendere con il dito come se applicassi un normalissimo ombretto shimmer e lo vado a picchiettare qua nella parte iniziale dell'occhio e un pochino anche nell'angolo interno per fare il punto luce quindi lo applico, potete anche applicare un illuminante rosa, quello che più preferite e lo vado a picchiettare in questo modo qua con il pennello di prima risfumo leggermente i bordi in questo modo qua ma proprio con la mano super super leggera e poi applico il mascara che è il My Epitoy di Diego della Palma e lavoro per bene le mie ciglia perché è molto molto importante avere delle belle ciglia perché chiaramente, come vi dico sempre, il mascara è il mascara cioè ci vuole secondo me quindi le lavoro per bene, le apro e guardate qua che bello e non sembra neanche chi abbia applicato del bronzer e dell'illuminante sembrano due ombretti tranquillissime ed è un trucco molto molto semplice e questo quindi è il risultato finale del trucco è molto semplice, si fa neanche due minuti fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video